Rousseau, un ulteriore strumento digitale a disposizione dei cittadini. Abbiamo bisogno del tuo aiuto, aiutaci a sostenere la piattaforma online Rousseau, dove poter fare formazione e soprattutto scrivere le proposte di legge e di iniziativa popolare per le regioni, per il Parlamento europeo e nazionale. Uno dei migliori strumenti di democrazia diretta tipica del Movimento 5 Stelle. È una piattaforma gestita direttamente dai cittadini, i quali possono partecipare in maniera diretta, sul serio. Contro la politica che decide dall'alto e non si confronta con i cittadini, Rousseau è uno strumento perché la politica riparta dal basso. Sostieni Rousseau!